It tries to give up on her own She needs an answer Eccomi, eh? Prego Diedo scusa Ma ci mancherebbe Mi scusa del ritardo Brignola, molto bene Diamanti Quindi lei sostituisce il signor Segato Che non è lei Segato? No, io sono Diamanti e sono venuto per vedere un appartamento Eh, anch'io, sì Eccolo qua Prego, prego Signor Brignola No, io sono Diamanti Brignola, lo sono io Scusate, scusate Devo aver confuso gli appuntamenti Va bene, chi lo vuole vedere per primo? Ecco, io avrei uno scarico al negozio No, scusate, io avrei un'intervista da fare Mi dispergo Ah, stavo una bella cosa Facciamo una bella doppietta E lo vediamo tutti insieme Va bene? Andiamo, andiamo Una doppietta Una doppietta